Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Dopo due mesi di silenzio stampa Ritorno in grande stile O in poco stile, dipende da come la volete vedere Come vi ho già detto nel video che ho fatto all'inizio Questo qui non vuole essere un lavoro, non vuole essere una fatica Vuole essere per me un divertimento prima di tutto E se io per primo non mi diverto Sono sicuro che non riesco a divertire voi Quindi mi scuso per la mia assenza Però veramente non sono riuscito a tirar fuori un contenuto che mi soddisfacesse Ne ho girati due o tre ma non so se li vedrete Non so quando li vedrete perché adesso questa meravigliosa quarantena Di cui tutti siamo a conoscenza sta volgendo al termine Infatti io sono finalmente tornato in macchina E questa cosa mi fa veramente molto strano Perché erano due mesi che non guidavo Se non per dieci chilometri andare a fare la spesa Andare a dove mi serviva andare Comunque non più di dieci chilometri in un colpo Io abituato a farne mille e cinquecento settimana Vi lascio immaginare il mio stato d'animo Ho disimparato completamente a guidare Sono in direzione Milano Sto andando a ritirare una macchina che tra poco vedrete Però prima di andare a ritirare questa macchina Volevo fare un ragionamento su quello che sarà la situazione di mercato La situazione automotive diciamo di questa post quarantena Post Covid-19 Voglio farvi raccontare da chi è veramente dentro questo mondo Quello che è la sensazione o quelle che sono le loro previsioni Il primo che provo a chiamare è Mattia Donolato Mattia Donolato l'avete visto nel video di Automotore Trost Se non l'avete visto andate a vederlo che poi è di qua sempre È un venditore del gruppo Fassina di Milano Mio amico personale E tratta molto auto usate a chilometri in terra nel salone usato Che tra l'altro quello di Fassina è uno dei più grandi in Italia Quindi lui ha sicuramente il polso della situazione Nel frattempo stiamo arrivando al Car Village di Fassina E indovinate la novità? A Milano piove! Adesso ho messo la mascherina perché sto entrando in showroom E sto attenendo che mi aprano la sbarra Buongiorno Posso aiutarla? Sì, ho appuntamento con Mattia Donolato dell'usato Ok, prego Grazie Prego, 361, buona giornata Grazie mille Buongiorno Un metro Un metro Perché se no qua non va bene Dobbiamo stare distanti, spero che il microfono ci senta Siamo in pausa pranzo quindi non diamo fastidio a nessuno Io ti vengo a dare fastidio a te Vabbè, ho già mangiato ma allora mi dai fa sempre fastidio Appunto, quindi non ci sono problemi Non ci sono problemi Hai già mangiato? Sì Quindi non andiamo al Mac? Io volevo andare al Mac Sì, con questo diluvio qua Vabbè, drive Da lavorare Allora, la prima cosa che noto è innanzitutto il distanziamento Comunque la sicurezza, l'antisputi qua come si chiama La paratia di plexiglass In mezzo a questo salone pieno Pieno, 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 pieno di macchine Io lo conosco, magari i nostri amici no Quindi lo facciamo, lo facciamo vedere Te ti conoscono Che comunque sei un po' una testa a casso Ma questo si sa Questo si sapeva Adesso attacco il microfono Che così magari ti si sente un po' meglio Metto il direzionale Si sentirà un po' meno la mia voce Ma quello che devi parlare sei tu Oltre il fatto che sono senza occhiali Perché si apparlano con la mascherina Ma off topic Volevo chiederti fondamentalmente Quello che è la situazione Cioè avete iniziato a lavorare da una settimana più o meno Volevo capire qual è il sentimento Il giro Come sta andando la cosa Allora abbiamo iniziato il 4 maggio Abbiamo riaperto tutti quanti Per cui è stata abbastanza traumatica all'inizio La situazione Stiamo consegnando le vetture ai clienti Che quelle pratiche erano rimaste ferme Da prima del lockdown Io personalmente pensavo Che fosse stata un po' più lenta la ripresa E in realtà comunque di gente La gente continua ad avere bisogno dell'automobile E forse per via anche del distanziamento sociale Hanno anche più bisogno di un'automobile adesso Ma infatti Cos'interrompo In un contesto come Milano Io adesso il mezzo Non lo utilizzerei Già non li uso nuovamente Ma li userei ancora meno Questo spingerà comunque le persone Che magari non possono andare per forza in bicicletta Al lavoro A comprarsi un'automobile I tempi sono lunghi comunque Perché è come un treno merci Che è stato fermato all'inizio di marzo E che adesso deve ripartire Gli ci vuole un po' per prendere velocità Però i presupposti sembrano abbastanza buoni Diciamo che Io personalmente ero più pessimista Cosa si sta vendendo adesso Cioè si sta vendendo tanto nuovo Si sta vendendo tanto usato Si sta vendendo macchine piccole Macchine grandi Macchine medie Tendenzialmente Quando c'è una crisi economica Ad andare via prima Sono le macchine piccoline Quindi l'estrema necessità E paradossalmente il lusso La settimana scorsa Abbiamo comunque venduto Parecchio usato È anche abbastanza logico Logica come cosa Perché probabilmente i clienti Tendono ad abbassare un po' Il budget che volevano spendere inizialmente E quindi affacciarsi a un usato Bisognerà poi vedere anche Proprio ripeto il nuovo Se magari abbassa i prezzi di listino Se fanno delle promozioni Perché poi di conseguenza Il mercato si adegua Quello che sarà interessante vedere Sarà sulle vetture medie È la via di mezzo infatti È la via di mezzo che potrebbe subire Qualche contraccolpo Perché magari chi Come dicevo prima Chi ha un certo budget in testa Se lo abbassa dopo questa situazione di crisi O comunque magari pospone Quindi magari Oppure pospone Sarà un po' interessante vedere Nel futuro Perché questa è una situazione Che si ripercolterà nell'arco Di uno o due anni Il discorso appuntamenti Non appuntamenti Avete gente comunque entra Diciamo A vedere O entra A comprare Noi preferiamo E comunque Cerchiamo di lavorare Sempre su appuntamento In maniera da non avere Assembramento Dentro il salone All'ingresso viene misurata La temperatura Infatti Bisogna comunque cercare Bisogna essere da soli macchina Oppure Si può anche essere in due Però Con tutte le cautelle Con tutte le cautelle del caso Noi abbiamo i guanti Abbiamo la mascherina Quando si entra dentro il salone Ci si lava le mani Non si può entrare dentro In un'automobile Bisogna E tendenzialmente Si fa tutto il suo appuntamento Le persone sono anche Molto responsabili Quelle che entrano Tutti ovviamente Con la mascherina Tutti con i guanti Tutti capisci Capiamo tutti la situazione Abbiamo subito una batosta Tutti Molto importante Perché ce la ricorderemo Tutta la vita Io ho disimparato a guidare È un problema È un grosso problema Ma prima se devi guidare Sicuramente Sicuramente Meglio di adesso Sicuramente Meglio di adesso Hai fatto due mesi Su D'Ertrelli Il problema È che Su D'Ertrelli Non si muove La chiappina Non si muove E quindi È una sensazione strana Cioè il volante è ok Ma la chiappina Mi è proprio fatto strano Sentire il movimento Del cuore Cioè mi mancava quello Prova a domandare A Casta Informatica Se ti mettono Logitech Sulla macchina No No Hai già domandato Non te lo fanno Mi dissocio Anche le vetture Quando le consegniamo Andiamo a notarne Però il concetto qual è? Allora il concetto È comunque Che noi Quando fissiamo l'appuntamento Con il cliente Per ritirare la sua vettura La vettura che ha acquistato Prendiamo la loro macchina Gli facciamo una seconda sanificazione Viene coperto il volante Viene coperto il sedile Viene coperto il pomello del cambio E viene spostata nel parcheggio Aspettando l'appuntamento del cliente Ovviamente chi la utilizza Si sanifica le mani Mascherina Guanti Gli consegna la vettura Consegna la vettura al cliente Che se la porta via Quindi poi la macchina rimane di ferma Diciamo un attimino buona Si 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 Viene applicato il trattamento E il cliente è la prima persona Che la tocca Dopo il trattamento Dopo il trattamento È la prima persona che la tocca Ok Le chiavi Le chiavi vengono significate Le chiavi Viene Cioè la macchina Si può mangiare dentro Quasi Detto questo Mattia Ti ringrazio Ti lascio lavorare Vado a fare i miei giri I loschi e ci vediamo Quando magari potremmo anche darci un bacino Non è vero Schiazzando Ti ringrazio davvero per questa cosa Perché mi serviva capire Qual era il punto di vista di qualcuno Che ci lavora fondamentalmente Quindi che ha la percezione Reale Ciao Se avete bisogno di una macchina Chiamate Chiamate Mattia Chiamate Mattia Vi lascio il numero qua sotto In descrizione Vi lascio il numero qua sotto In descrizione Veramente Poi stoccheratelo No vi lascio i suoi contatti Comunque si Non vi prendevo mica in giro Quando dicevo che volevo andare al Mac Eh Volevo mangiarlo a casa Andando a ritirare la macchina Che dovevo ritirare Camminare con la mascherina Mi sta ammazzando Sto andando a prendere una car to go Tra l'altro Non vicinissima la casa E vediamo qual è lo stato Perché il vero problema è quello Ho messo i guanti Perché Che mi sembra al minimo Finché era l'altra macchina L'avevo igienizzata E quant'altro La macchina stamattina Ero con i guanti Ecco qua la car to go Vediamo in che stato è Fuori non pulitissima Però vabbè Nel senso Piove quindi Si sta? Onestamente dentro Sembra essere molto più pulita Di quando Una volta si lasciavano Quindi Questo mi fa veramente piacere Soprattutto il volante E' proprio una sensazione di pulizia Il pomelo del cambio E c'è anche diciamo Un gel disinfettante Che sinceramente Che belli gli occhiali Che sinceramente però Non userei Perché comunque L'hanno toccato tutti Quindi piuttosto è meglio Sembra avere il proprio gel per le mani Anche le chiavi tutto sommato Mi sembrano pulite Diciamo che il tetto oggi Con lo Ford Dal primo di maggio Tutte queste operazioni Sono obbligatorie Ok Tutte le auto Deve c'è stampa Verranno consegnate Sanificate Con all'interno Una promessa di sanificazione Come vediamo All'interno Chi ha compiuto Il processo di sanificazione Ha lasciato il check Così come La promessa di sanificazione Ok Tra l'altro vedo Copertura Di tutto Boio sulla portiera Ok Ok Quindi vado io Non tocchiamo l'auto La tocca soltanto Il giornalista Il cliente Quindi Perfetto Copertura Sul tappetino di guida Copertura sul sedile Volante E pomello del cambio Stessa cosa Ovviamente immagino Facciate coi clienti Tutte le auto In consegna nuove Di varco Vengono consegnate Con lo stesso processo Di sanificazione Ok Quindi questo processo Serve a garantire Al cliente La massima trasparenza Dei nostri confronti Per quanto riguarda La significazione Delle auto Ok Mi diceva quel discorso Della spiegazione Delle macchine Che è un problema Spiegare al cliente La vettura Il mio compito È sempre stato Quello di spiegare Nel dettaglio La strumentazione Delle auto Certo Questo per me Oltre a un lavoro È anche una grande passione Sono molto appassionato Del mio lavoro E quindi mi piaceva Entrare proprio In simbiosi Con il cliente Per spiegare Oltre che la strumentazione Alla parte tecnologica Creare E instaurare Anche un rapporto umano Oltre che Al rapporto commerciale Che ovviamente Il cliente instaura Con la società Mi fa molto piacere Trovare una situazione Diciamo Sicura Se mi sento sicuro Vedendo questa cosa Dico Ok Lo hanno fatto Quello che potevano fare Quindi mi fa molto piacere Noi a questo momento Come vi dicevo Cerchiamo anche Di consegnare al cliente Delle video spiegazioni Ok Che estrapoliamo Dal canale ufficiale Di Ford Dove Il cliente Una volta Diciamo Ricevuto il saldo Da parte del concessionario Avrà in dotazione Queste video spiegazioni Dove Il cliente avrà Dai 5 A 10 giorni Di tempo Per Ovviamente Guardarsi con calma Tutte le spiegazioni Dell'auto Nel dettaglio Dove può Anche All'occorrenza Quando verrà A ritirare la sua auto nuova Sentirsi Dentro Un Un clima Conosciuto Quindi dentro Una Una cosa vista Esatto Una cosa già vista In cui l'auto Esce dal concessionario L'auto è già Connessa Quindi Ok Abbiamo già Sotto mano Diciamo La situazione E anche il cliente Un po' più tranquillo Perché si sente Diciamo Attraverso l'app Del suo smartphone Più sicuro Perché sa sempre Dove è l'auto Può aprirla E chiuderla Direttamente Dello smartphone In remoto Tutte le funzioni Della Ford Per montare Tagliando Ok Perfetto La ringrazio Alfredo E buon lavoro A questo punto Grazie di essere Stati alla parte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti